Salve a tutti, in questo video vorrei parlare di tre questioni molto importanti che riguardano il fronte in Ucraina. La prima questione è Avdivka nel Donetsk, la seconda è Krinki nel Kherson e la terza è Robotine nell'Oblast di Zaporizia. Prima di entrare nel vivo del discorso, come sempre leggerò un articolo che ho pubblicato per sicurezzainternazionale.com, il sito di cui sono direttore, vorrei rispondere a Giuseppe Cruciani della Zanzara e poi vorrei fare una comunicazione di servizio. Prima di rispondere a Cruciani mi libero subito della comunicazione di servizio ed è questa, mi scuso con gli abbonati di sicurezzainternazionale.com per l'errore commesso in un video precedente, la prossima diretta con gli abbonati e terrò la prossima diretta con gli abbonati di sicurezzainternazionale.com il 29 febbraio dalle 19 alle 20. Sicurezza internazionale.com è il primo sito in Italia per numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale, ne pubblichiamo oltre 400 al mese. Tolta la comunicazione di servizio, Giuseppe Cruciani. Giuseppe Cruciani è il conduttore della Zanzara, mi è giunta notizia che ogni tanto si occupa di quello che dico da Bianca Berlinguer in televisione o sul Fatto Quotidiano o qualcosa del genere. Intanto lo ringrazio di non avermi insultato, di non avermi preso a parolacce e credo che questo sia già un grande progresso. Qual è l'oggetto del contendere, qual è il tema della discussione? Qualche giorno fa da Bianca Berlinguer io ho detto. Per quanto riguarda le dichiarazioni affettuose che Putin ha rivolto all'Italia, queste sue parole dovrebbero, queste sue parole sono oro colato. Giuseppe Cruciani non ha capito quello che ho detto e ha riportato i fatti in questo modo. Il professore Orsini ha detto che le parole di Putin devono essere prese come oro colato. Non ho detto questo, poi spiegherò a Cruciani il senso della mia affermazione perché semplicemente non l'ha capita. Dire che le parole di Putin sono oro colato significa che hanno un grande valore e io adesso spiegherò quale sia. Dire invece, cosa che non ho detto ma che è stata riportata da Cruciani, le parole di Putin devono essere prese come oro colato ha un significato completamente diverso, significa che quelle parole devono essere considerate assolutamente vere. Perché le parole di Putin sono oro colato per l'Italia, perché le parole di Putin hanno un grande valore per l'Italia. Adesso lo spiegherò, spiegherò il senso di quella mia frase, quindi fondamentalmente lo spiegherò a Giuseppe Cruciani. Però devo dire a Cruciani che io non sono stato mai licenziato dalla LUIS. Questa è una fake news che è stata riportata il 5 giugno del 2022 in un articolo del Corriere della Sera intitolato I Putiniani d'Italia, articolo per il quale ho correrato il Corriere della Sera eccetera eccetera, in cui era scritto nero su bianco, quindi sull'edizione cartacea del Corriere della Sera, il professor Orsidi è stato licenziato dalla LUIS. No, questo non è mai accaduto, io non sono stato mai licenziato dalla LUIS. Ho sempre continuato a insegnare alla LUIS, ho tantissimi studenti, tanti laureandi e non ho mai... questa è semplicemente una notizia falsa. Una fake news che è stata letteralmente inventata dentro questa campagna di diffamazione, denigrazione, demonizzazione e di falsificazione delle informazioni è una vera e propria notizia falsa. Giuseppe Cruciani ripeteva, è stato licenziato dalla LUIS, non so se insegne più, non lo so, non mi interessa, in teoria gli dovrebbe interessare perché fa il giornalista e dovrebbe controllare le informazioni, cioè dovrebbe rispettare la verità sostanziale dei fatti. La verità sostanziale dei fatti è che questa è una falsa notizia, è stata messa in giro da radio, giornali, televisioni, diffamatori, calugnatori vari, ma è assolutamente falsa. Qual è il senso della mia affermazione con riferimento a Putin? Significa questo. Ogni Stato è un massimizzatore dell'utilità individuale, fondamentalmente agisce in maniera egoista per preservare e tutelare i propri interessi nazionali. Questa condotta è tipica degli Stati Uniti, gli Stati Uniti curano i propri interessi, si disinteressano degli altri e si interessano degli altri soltanto se questo porta dei benefici agli Stati Uniti. L'Italia fa eccezione. Perché? Perché l'Italia è uno Stato satellite degli Stati Uniti, quindi non può massimizzare l'utilità individuale come fanno gli Stati Uniti o come fanno altri Stati più potenti dell'Italia. Quindi l'Italia ha bisogno di una classe di giornalisti, come Giuseppe Cruciani, che inducano gli italiani a credere che l'Italia agisce in un modo e non potrebbe agire diversamente. Cioè la logica di Cruciani qual è? È questa. L'Italia fa un certo tipo di politica nei confronti della Russia, non potrebbe essere diversa da com'è. Se il professor Orsini fa una proposta per cambiare, per modificare certe azioni dell'Italia nei confronti dell'Ucraina, e questo deve essere oggetto di derisione, è tutto assurdo. Questi giornalisti svolgono questa funzione importantissima di nascondere il fatto che l'Italia sia uno Stato satellite degli Stati Uniti. Ora, se l'Italia massimizzasse l'utilità individuale, di fronte all'apertura di Putin cercherebbe di cogliere la palla al balzo per assumere un ruolo da protagonista in seno all'Unione Europea come mediatore. In questo senso l'Italia dovrebbe scalzare la Turchia o affiancare la Turchia nel processo di mediazione, per una serie di ragioni. La prima ragione è che l'Italia ha soltanto danni dai conflitti internazionali e dalle guerre. Io non posso spiegare perché, ma le caratteristiche del nostro sistema paese, in particolare le caratteristiche del nostro sistema economico, sono tali per cui quando scoppia una guerra noi ne riceviamo soltanto grandissimi danni. Quindi è interesse nazionale dell'Italia che la guerra in Ucraina riduca la propria intensità o che eventualmente si fermi. E stesso discorso riguarda il Mar Rosso. Quando Putin dice, io ho sempre avuto molti amici in Italia, ho sempre avuto un ottimo rapporto con l'Italia, un paese satellite che cosa fa? Siccome ha paura del giudizio degli Stati Uniti, si affretta a dire cerchiamo quali siano questi amici di Putin in maniera tale da individuarli, massacrarli pubblicamente, denunciarli, metterli all'agonia. Un paese che invece sia sovrano e indipendente ha una ragione in questo modo, ragiona diversamente, dice. Putin ha fatto un'apertura molto forte nei confronti dell'Italia, probabilmente dal punto di vista diplomatico, leggendo dietro le sue parole, quello che si può ricavare è che Putin stia tendendo la mano all'Italia, ma non affinché l'Italia diventi alleata della Russia e inizia a sparare contro gli ucraini. Non è questo il significato. Quelle parole sono pronunciate probabilmente perché Putin vuole indurre l'Italia ad assumere un atteggiamento più moderato e ragionevole nei confronti della guerra in Ucraina, perché la posizione di Giorgia Meloni è iperoltransista, cioè la posizione di Giorgia Meloni è dobbiamo sconfiggere la Russia sul campo e come abbiamo visto è impossibile perché l'Ucraina di fatto ha già perso la guerra, tra le altre cose. Tutto questo non viene detto. La ragione ha a che vedere con la psicologia collettiva, perché noi siamo un paese satellite, quindi noi non possiamo nemmeno permetterci in televisione di dire, dovremmo cercare di ragionare su queste parole di Putin per capire se l'Italia possa trovarsi nella condizione di beneficiarne, cioè di assumere un ruolo preeminente in questa contesa come mediatore innanzitutto per tutelare l'interesse nazionale dell'Italia e poi anche per salvare la vita di migliaia di ucraini che stanno andando incontro a morte certa e soprattutto morte inutile perché gli ucraini non hanno nessuna possibilità di vincere questa guerra. La loro controoffensiva è stato un fallimento colossale e ci sono tantissimi giovani ucraini che supplicano l'Occidente di fermare questa guerra perché moltissimi di loro non vogliono più combattere, infatti molti scappano all'estero, altri disertano, altri ancora abbandonano il fronte come è successo ad Avivka, molti soldati adesso come vi spiegherò sono scappati prima che Sirski, il comandante dell'esercito ucraino dichiarasse la ritirata, ci sono tantissimi giovani ucraini che non vogliono più combattere perché sanno che sono diventati carne da macello in quanto, adesso lo leggerò anche nell'articolo, sono gli stessi vertici dell'esercito ucraino, ripeto vi leggerò il virgolettato, la testimonianza del generale ucraino, che dicono che ad Avivka il rapporto tra l'artiglieria russa e l'artiglieria ucraina era di 1 a 10, cioè per ogni proiettile sparato dall'ucraina, gli russi ne sparavano 10, quindi i giovani ucraini, adesso vi parlerò anche di quello che sta succedendo a Krinki, di quello che è successo, che sta succedendo a Robotine, tantissimi ucraini semplicemente non vogliono più combattere, cioè mentre Calenda dice forza ucraini vedremo le armi, combattete, morite al fronte, gli ucraini che però non hanno voce per farsi sentire in Italia, dal fronte dicono no grazie Calenda tieniti queste armi, quello che a noi serve è una trattativa perché non vogliamo morire, perché siamo carne da macello, perché ci sparano in faccia e noi non abbiamo nemmeno gli strumenti per poterci difendere dai bombardamenti russi, perché non abbiamo la difesa aerea, non abbiamo le strumentazioni, non abbiamo i proiettili e così via. Questo per dare un'idea dello scarto enorme che ci sia tra i politici da salotto, o meglio lo scarto enorme che esiste tra la rappresentazione della guerra dei politici da salotto e quello che accade al fronte. È uno scarto enorme perché i politici italiani alla calenda pensano che gli ucraini vogliono combattere, che siano lì al fronte a dire grazie Calenda che adesso ci manderei altre armi, no, gli ucraini al fronte non dicono grazie Calenda che ci mandi altre armi, dicono maledetti a voi che continuate a inviarci armi quando noi vorremmo semplicemente non morire più perché abbiamo capito che la guerra è persa. Adesso comunque vi leggerò un articolo per riassumere il senso di quello che ho detto, l'articolo è stato pubblicato su sicurezza internazionale.com, si intitola La guerra in Ucraina compie due anni. La guerra in Ucraina compie oggi due anni, sarebbe più corretto dire che l'Ucraina ha perso la guerra in due anni. La controoffensiva Ucraina è stata un fallimento colossale. L'Ucraina è oggi senza soldi, senza munizioni, senza difesa aerea e ciò che è peggio in una guerra d'attrito senza soldati. L'Occidente può dare soldi a Zelensky e nient'altro. La sua industria bellica non regge il passo di quella russa, cioè l'industria bellica della Nato non regge il passo di quella russa. Tarnavsky, comandante del fronte sud ucraino, ha dichiarato che il rapporto tra i colpi di artiglieria ucraina e russa era di 1 a 10 ad Avdivka, come riporta il New York Times. All'inizio della guerra avevo detto, per ogni proiettile della Nato che l'Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà 10 proiettili contro l'Ucraina, così è stato. C'è un fatto molto importante che in Italia non è stato riportato, perché fornisce una misura preoccupante del collasso graduale dell'esercito ucraino. Il fatto è questo. Ad Avdivka, data la sproporzione tra le forze, i soldati ucraini avevano capito da molte settimane di essere spacciati. Tuttavia Zelensky ha voluto che combattessero fino all'ultimo. L'ex comandante dell'esercito, Zaluzny, era molto più amato di Zelensky, perché cercava di salvare la vita del maggior numero possibile di soldati, tutte le volte che la battaglia gli appariva persa o senza speranze di vittoria. Gli stessi vertici del Pentagono avevano accusato Zaluzny di proteggere eccessivamente la vita dei propri soldati, come si legge in questo articolo del New York Times del 18 agosto 2023. Chiaramente c'è il link all'articolo citato nell'articolo che sto leggendo. La razionalità di Zelensky, invece, è molto più politica che militare. Pur di dare l'impressione all'Occidente che l'Ucraina sia vincente, e quindi meritevole di ricevere armi e soldi, preferisce mandare i propri soldati al massacro. Alla fine, molti soldati ucraini sono scappati da Avdivka, a piedi, per i campi, per coprire lo scandalo. L'uomo che ha preso il posto di Zaluzny, Sirski, il nuovo comandante dell'esercito, ha dichiarato la ritirata. In realtà la ritirata era già avvenuta sotto forma di fuga scomposta. Una situazione analoga si è riproposta a Krenki, nel Kherson, dove la testa di ponte, creata dagli ucraini, è stato oggetto di un massacro costante da parte dell'artiglieria russa, un'impresa sconsiderata senza alcuna razionalità militare, in cui Zelensky ha voluto perseverare per indurre l'Occidente a credere che l'esercito ucraino si sarebbe un giorno slanciato verso le difese russe sbaragliandole. Poco dopo la caduta di Avdivka è caduta anche Krenki. L'Ucraina ha perso persino la speranza di riconquistare la regione di Kherson. A Krenki sono morti moltissimi soldati, molti dei quali truppe scelte. Una testa di ponte è una postazione in territorio nemico con una barriera naturale alle spalle, generalmente un fiume. Una volta creata la testa di ponte, gli ucraini hanno avuto il problema di trasferire carri armati e soldati da una sponda all'altra del fiume Dnipr. Già che, creata la testa di ponte, bisogna poi fortificarla. I russi hanno giocato al tiro al piccione. È stato un massacro senza senso. Con il passare delle ore, la situazione dell'esercito ucraino peggiora sempre di più, mentre i russi sono all'offensiva dappertutto. Nel frattempo Biden sta addirittura considerando la possibilità di inserire la Russia nella lista degli stati sponsor del terrorismo, per sequestrare le risorse finanziarie depositate dalle aziende russe nelle banche e nei fondi di investimento americani per girare 60 miliardi di dollari russi all'Ucraina. In base alla letteratura scientifica sul terrorismo, la Russia non è in alcun modo uno stato sponsor del terrorismo. Sotto il profilo sociologico, l'intenzione di classificare la Russia come tale, riapre un dibattito tra gli studiosi di terrorismo, i quali hanno già evidenziato, sulle maggiori riviste scientifiche del settore, come la Casa Bianca utilizzi l'etichetta terrorista in modi strumentali e impropri per perseguire i propri obiettivi nell'arena internazionale. È infatti grottesco che Biden pensi di disegnare la Russia stato sponsor del terrorismo, mentre Israele sta utilizzando il terrorismo di stato all'impazzata contro i civili palestinesi. Ricordiamo che Israele ha massacrato oltre 13 mila bambini palestinesi, oltre 20 mila civili, ammazza anche i bambini nelle incubatrici. L'esercito israeliano ha addirittura causato la morte dei bambini palestinesi, dei neonati palestinesi nelle incubatrici. Quindi è semplicemente grottesco che Biden pensi di disegnare la Russia stato sponsor del terrorismo, ma non Israele, tanto più che Biden fornisce a Israele tutti i proiettili con cui Netanyahu perfora il corpo dei palestinesi, cioè il corpo dei 29 mila palestinesi è stato attraversato dai proiettili di Biden. In una società libera tutto ciò dovrebbe essere oggetto di dibattito pubblico. Il potere di definire chi sia terrorista è un potere di vita e di morte tipico delle tirannie. E non delle società libere. A questo punto vengo ad un'ultima considerazione che poi dopo spero di sviluppare in un altro mio video vorrei dedicare a questo argomento un video in particolare. Io spesso utilizzo l'espressione democrazie occidentali, democrazie criminali. E l'argomento che mi viene opposto è ma come fai a definire le democrazie occidentali, democrazie criminali, se in Italia, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti esiste la libertà di stampa. Ora, il punto è questo. Come insegna la scuola del sospetto? Tutte le comunità, tutte le civiltà, tutti gli Stati cercano di rappresentarsi in una luce sempre positiva. Quindi sono gli Stati stessi che stabiliscono i criteri della moralità. E nel caso delle democrazie occidentali il criterio della moralità è la politica interna. Ma se noi come criterio per stabilire la moralità di una civiltà utilizziamo la politica internazionale, appare evidente che le democrazie occidentali siano democrazie criminali, perché non esiste nessuna civiltà sterminatrice come la civiltà occidentale. Infatti sono soltanto le democrazie occidentali che stanno massacrando, che stanno sterminando la popolazione palestinese. La Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Siria, la Russia, nessuno di questi sta sterminando una popolazione intera, nessuno di questi sta intenzionalmente bersagliando donne, bambini e anziani come stanno facendo le democrazie occidentali a Gaza. Ora, per farmi capire anche da Cruciani, Cruciani ogni tanto credo che si occupi di calcio. Quindi facciamo un esempio che Cruciani possa capire, per comprendere questo discorso, delle democrazie occidentali, democrazie criminali. Prendiamo l'Inter e il Milan. Cruciani ha fatto tanti gol fuori casa, ne ha fatti più gol del Milan. Il Milan ha fatto più gol dell'Inter in casa. Bisogna stabilire chi sia più forte tra il Milan e l'Inter e quindi bisogna individuare un criterio. I giudici devono individuare un criterio per dare questo premio. L'Inter, che ha fatto tanti gol fuori casa, dirà che è più forte la squadra che ha fatto tanti gol fuori casa, perché segnare fuori casa è più difficile. Il Milan invece dirà no, dobbiamo utilizzare un altro criterio. Il criterio per stabilire chi sia più forte tra il Milan e l'Inter è chi abbia fatto più gol in casa. È ovvio, perché il Milan ha fatto tanti più gol dell'Inter in casa. Io ovviamente sto inventando, non so adesso chi abbia fatto più gol in casa o fuori casa tra il Milan e l'Inter, ma per far capire che cosa a Cruciani e alle persone come Cruciani, che le democrazie occidentali sono certamente democrazie criminali, se noi vediamo i massacri che compiono all'estero. E questo è fuori discussione, perché il massacro di Gaza è un atto criminale commesso dalle democrazie occidentali. Allora, i furbi come Cruciani e gli amici come Cruciani che cosa fanno? Per nascondere il fatto di essere giornalisti al servizio delle democrazie occidentali e di lavorare per le democrazie occidentali e per, diciamo così, coprire anche tante cose poco nobili delle democrazie occidentali. Dicono no, le democrazie occidentali non possono essere democrazie criminali. Grazie ai giornalisti come me, come Giuseppe Cruciani, vedete come sono libero, io faccio parlare tutti, quindi noi siamo liberi, quindi in Italia c'è la libertà di discussione, perciò il criterio è la politica interna, le democrazie occidentali sono una civiltà superiore. Eh no, perché se noi utilizziamo come criterio la politica internazionale, che è quello che conta davvero, quello che viene fuori è che le democrazie occidentali sono delle organizzazioni criminali. Le democrazie occidentali, dati empirici alla mano, come dire, utilizzando l'osservazione scientifica, che è un'osservazione emotivamente distaccata e quindi non ideologica, ciò che mostra l'osservazione scientifica è che non esiste una civiltà di massacratori come la civiltà occidentale. Molto semplice. Va bene, io vi ringrazio molto e a presto!